buonasera a tutti ragazzoli in questa live del sabato io sono vivi sector come penso si legga confermare quello che qui si è nei tuoi stessi video non lo so perchè a volte la faccio questa cosa però se vi fa piacere vedere queste mie minchiate in diretta live potete farlo ai link in descrizione oppure seguire i miei social dove pubblico veramente tanta roba tante news che magari vi possono anche interessare soprattutto facebook facebook dove pubblico più cose aiutato da sempreverde palp ad ogni modo jennifer buonasera a te visto che hai scritto ieri ti ho acchiappato in chiusura beh ora mi ha acchiappato in apertura che penso sia meglio purtroppo ieri come anche stasera la live si è conclusa a cena perchè dopo la cena sono dovuto uscire sono dovuto andare a un compleanno stasera finisce perchè io il sabato sera non streammo perchè già adesso che far venire qualcuno già adesso in live è un miracolo già che tu ci sia qui è un miracolo perchè il sabato non viene essenzialmente nessuno se non verso le 11 quando è capitato qualche volta ho avviato questa live giusto perchè mi sembrava giusto completare resident evil cioè provare a vedere se finisce resident evil con claire e non far aspettare tutto il weekend e cioè magari così da arrivare poi al lunedì con l'inizio di lyon vabbè troppe chiacchiere troppe stronzate inutili bando alle ciance io la la divisa da raccumpolis department ce l'ho come sempre mi accompagna partiamo anche con il gioco te chiacchiere inutili ho fatto vabbè io penso è che siamo arrivati quasi alla fine perchè siamo al laboratorio quindi non dovrebbe durare tanto a meno che non chiappo qualche qualche enigma complicato dove mi ci blocco ma siamo nel nest scusate c'ho un po sempre la gula allora dobbiamo posare questo ma dovevi fare una grande cosa siccome ne ho due ho visto che unirne due ti da comunque queste munizioni qua allora vediamo combina e proiettori 9 mm proiettori 9 mm da sempre quello allora ne unisco uno con questo perchè mi servono l'altro comunque li sparo con questa pistola qui che è bella potente questo qua invece lo deposito perchè magari unito ai bianchi quindi forse dico forse mi da le munizioni quelle per la magnum questa qua miauro ecco miauro vederla ok questa c'ho le munizioni così si me l'ha detto già si me l'ha detto già giù nel braccialetto tutto apposto la live tutto apposto te giù nel braccialetto questo mi sa che si mi serve l'accesso qua c'era quello è lì però ho trovato quello bianco quindi come avevo detto vediamo se funziona ma ne dubito però provare non nucio perchè io non riesco a capire come come cavolo fare sta cosa allora dov'era 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 eccolo qua prendi combina munizioni per lanciagranate qua con le acide no io devo capire devo capire sta cosa allora resident heavy 2 mix ammo ammo diciamo si aspetta ammo ammo combination ma questo è il trailer di lancio non mi interessa shotgun shotgun mega ammo submachine ah non si non si fanno quelle la quelle lì quelle lì per la magnum non si fanno quelle lì per la magnum non si fanno Ok non si Non c'è Quanto pare non si possono proprio fare How to get money Ecco questo è un video Ma neanche Mi ambo crafty questo è quel video che ho visto ieri Non ci stanno Proprio zero Vabbè allora facciamo così Combiniamo Questo qua Scusate Scusate Era doveroso farlo Visto che comunque Do info in questi gameplay In queste blind era Almeno sapete adesso che Non ci scelle Quelle dell'A Presa proprio fuoco Perfect Input code Dispensing solution now Se abbiamo già visto l'altra volta Ok Aspetta allora L'esamina Scusate 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 Oh no! Jesus! Shit! Sì. Sì. Non c'è più nulla qui da prendere, è strano. Sì. Sì. Dammit Ah la combinazione Ehm... Jenny me la scrivi? Facciamo tipo F Pausa Quella che è tipo una S F pausa S F Facciamo così Ma calaverde F pausa F pausa F Ok Fatto fatto grazie Allora devo andare a posare un po' di roba Perché mi sono riempito qua Allora No questo mi sa che Ce lo dobbiamo portare a presso Pensioniamo l'acide Eh un solo spazio Mi sembra un po' poco Facciamo così Potrebbe essersi aperta La porta dove appunto c'era L'acide io non ho posato la ecco quasi il vio è una granata beh appena attivo qualcosa alla fine ciao vanlock buonasera merda oh da dove cazzo sei uscito tu wow è come ci ho guardato come cazzo ci ho guardato ma è pronto non ti alzi più ci ho pure guardato in alto porca miseria ma è due vio marf no no Oh no. Allora, scrivetemi in Morph, ragazzi, me lo ricordate? Morph. Non direi che si muova ancora così. Mori e non dare fastidio. Muori po'. Soffri. Morph, grazie. Oh! Murtaccio. 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 Porca miseria. Ma porca miseria, ho sbagliato. Devo fare i colpi parametri agli adrish, vabbè. Sono tutti mutati, sono andato delle piante e continuo a tornare ancora e ancora. Buciamoli tutti, buciamoli che loro... Ah, ok, Eddie. Un modulatore di frequenza. Qua ti dice, praticamente quelli la con le piante addosso li devi bruciare. Oh! Oh, però non ci stanno quei pazzi da... Comunque... Allora... ... Grazie a tutti. Da questo zitto a zitto sta a salire a scale. Aspet. 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 Welcome back Dr. Li. You have five new messages. Nulla di utile. Ma qua c'è Grevo? No? Damn, I should have packed my parka. I don't know what I'm talking about. 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 Ah ah ok allora 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 Usiamo questi che per ora Non ci servono Ah non ho bianchi Non ho altri bianchi Ah si Non ho altri bianchi Volevo fare bianco e bianco ma niente Che poi sarebbe polvere da sparo qualità alta Per fare i mitra Allora facciamo sì Deposita 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 per ora Settiamoli qua Settiamoli qua Settiamoli qua Settiamoli qua Sì. Sì. Allora. Facciamosi tipo S, trattino, quadratini, trattuno. Allora. S. Trattini, trattone, quadratini. Tratto normale, ok, quadratini, trattone. Ah, spiazionati. Può essere che si legga così. No, perché. No, perché. Ok, si legge così. Quindi. Allora. 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 Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Si. Ah, cacchio però. Aspetta un attimo. Laboratorio. Sezione erbicida. Funzionare un contenitivo di una macchia di riempire. Aggiunge la quantità necessaria di UMB numero 21. Come diavolo si fa? Nu. Allora. Uhot. Puntere il. Savate i appare. Quang. Com Corn. Omgori. Off. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, sbagliato. No, no, non mi faccio afferrare. No, no, non mi faccio afferrare. No, non mi faccio afferrare. No, non mi faccio affercare. 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 Poi sono gusti. No, vabbè, è chiaro. A me questo sta piacendo. La parte della stazione è stata bellissima. No, non mi faccio affercare. 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 Non mi faccio affercare. No, non mi faccio affercare. No, non mi faccio affercare. Mi sa che questo lo devo ammazzare forse. Oh porca miseria questo è arrivato qua Ho riammazzato Perlu c'è Allora Allora fatemi della mappa Ok qui ho preso tutto Ah dobbiamo fare Dove essere punto interrogativo si Poi che c'era più B2 Ho fatto tutto anche qua Manca solo sto coltello ma Oddio In effetti potevo prenderlo Prima sarei risparmiato Mi sarei risparmiato una morte Eh ma come andare a piarlo Quello sto ancora appeso si No Ah però suca 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 Allora 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 Questo qua me lo ricordo dove serve Infatti mo mi sa che devo andare a usare questo E tra l'altro bianco non ce l'ho Sennò facevo bianco e bianco Quella mitragliatrice Ma niente ancora Allora Calviamo Ciao lady Buonasera Come sta andando? Benone dai Benone Lei tutto bene? Ieri è stata veramente una tipa tosta Nonostante le Le problematiche Si è comunque Decisa a continuare Doom 3 Complimenti eh Cioè è stato insta follow Appena ho visto Doom 3 Insta follow Subito Ragazzi Lady Killer Non c'è Una ragazza che stream Anche lei Infatti se Benlock Gli può fare uno shoutino Male non fa E gioca a Doom 3 Tra l'altro Neanche il Doom 3 Quello modificato Con La torcia Già Messa nel fucilazzo Easy No Se lo gioco quello che la torcia La deve mettere a mano Quindi Tanta roba È giocato parecchio male Alla fine L'è esistito Non è che Questa la testa L'ho schiacciata No Ancora vivo Allora Questo è maff Quindi Esamina Che cazzo Sono sti cosi Non l'ho capito Vabbè Use it No ma Non c'è lo zombie Da là dentro Ma che Due coglioni Ta' buono Tente Mo' Non sapevo Ah questo è il dottore Quello la Non faccio le cose serie Ah no No faccio le cose serie Si beh Doom 3 è tanta roba Non morirò Eh invece sei morto E non è ancora finito L'utilizzo di quel co Oh Eccolo qua Questo se si alza Metto un po' addosso Diretto Sta buono eh Ho visto tutto Si Si devo andare Alla la ovest Stanza delle guardie C'è uno Ah c'è C'è Sherry Praticamente Eh beh Dai Gladio Allora Mandagli subito Il link del tuo gruppo Fagli vedere Le cose serie A tema Nintendo Metterlo nella chat Linkalo Dovrebbe essere lei L'obiettivo qua dentro Eh infatti Si Qua non c'era più nulla Da autorizzare Vero o no Non mi sto portando Si Gladio è proprio Sta diventando Il king Dei Nintendo In Italia Vero Un'altra cassetta E' domani Guarda Ma lì Devo accendere Ma lì Scusate Piantina Eccolo lì Eccolo lì Mi sa che perderò il mio Il mio fan number one Gladio Rosso Noo Il mio ingegnere Perché adesso Andrà subito Da Ladykiller A fare La roba Nintendo Oh Ah ma questo Mi sa che ce ne sta uno Per ogni cosa Il prossimo Fuori Urfa Ancora Oh Si è totalmente A casa Lo faccio Non ci metto Una lodge Io lo faccio Totalmente A casa Biscine Biscine We're going in Dr. Birkin You'll come along with us Quietly You think I didn't know You were coming This is my life's work I'm not handing over Anything We have our orders Dr. Birkin I'll ask you one more time Hold your fire Se è la scena Che c'è Il filmato Anche nel blu What the fuck Were you thinking Our orders Were to bring them in alive We're in sir But we had a snafu Target resisted We had to take them out Che cazzo che qui venga Raccontato Tramite cassetta Le cose Questo pure ti dice Che Ormai è Non potevano solo Azzoparlo Infatti Quello glielo dice Che cazzo fai Perché l'hai ucciso Poi tra l'altro Erano tipo In 5 contro 1 Lo bloccavano Dai Se l'avessero solo Azzoppato Sarebbe successo Il casino Comunque Perché Umbrella Non ha mai avuto Buone intenzioni Col virus Però almeno Ci risparmiavamo Birkin Che ci rompeva I cogliones O chiamo G Un altro bianco Questo mi serviva Perfetto Ehm Ma No No Capito Ma qua ci sta Il punto di denogativo Allora Dove 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 Allora Ho come l'impressione Che là Ci sarà Qualcuno Da Menare Quindi Seriamo Prendiamo Prendiamo La dentro La dentro Se dovemo Da menare Quindi aspetta Se dovemo Da menare Facciamo Questo qua Questo qua Questo qua Questo qua Ok C'è C'è il salvataggio No Vabbè Vabbè Andiamo così C'è il salvataggio Sei pronto per Claire B No Io farò Leon B Lo potrei fare Con le coltellate Nell'occhio Dove sta la cru Senza sparare In verità Me lo potevo fare Con quest'arma qua Lo immobilizzavo Subito E lo Facevo Beccare Con la La cru In faccia Ah Questa è quella parte Sì sì Ho letto Ho letto L'ordine diciamo In teoria Canonico L'ho scritto Sotto al mio Primo gameplay Che trovi Sul canale Youtube Cara lady Sì perché Ho anche Dei social Se ti va Di seguirli L'ordine diciamo Canonico Perché ci sono Dei vari indizi Anche in Darkside Chronicles O comunque Ci sono state Conferme Smentite Dai parti Degli sviluppatori Blah 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 È Claire Leon B Questo diciamo L'ordine canonico Però alla fine Ognuno Lo gioca Come gli pare Quindi No Fortunatamente Questi si leggono Le luci Dai Corri Oh Dammit Oh Look at that All right Hell yeah Got it grazie a te l'agente antiviral devi tornare a Sherry ti fa salvare perché mi sa che la ti meni con qualcuno sono sicuro allora sì perché tra l'altro non ho trovato la scheda qua dentro allora questo qua usiamoli usiamo anche questo per ora non ho tempo di pensare vediamo un attimo questo combina deposita andiamo hai followato tutto grazie che gentile l'unica gente antivirale sta soltanto in quella provetta no vabbè no eccola qua la famigliola Birkin non è possibile che me ne fanno andare da qua no ma le stanno facendo proprio mo mo sentivo proprio nelle viscere ho detto io ho detto è william mcgay E ora? Cosa è questo? Questo è mio amico. È mio amico! È mio amico! William! S'ilessore che avevo ucciso mentre avevo la possibilità. Non ne sape perché, ma... Non potevo fare. Era il tuo amico. Inoltre, eravamo più amici con il nostro lavoro che gli altri. Ma cosa sui Sherry? Che potete lasciare solo solo solo? Se la città di Rackham si è morto per aiutare! Non potete lasciare la mia figlia in un mondo con il G-virus. Ma questo non è possibile! Annette! Mi ha fatto questo! Mi serve quella pistola, mi serve. No! Ho fatto questo! Tu dovresti guardare, Sherry. Ma che è un scontro finale? Ho una abbastanza buona idea! Cosa che tu fai... Non parli fino a che è finita! Trattami! Questo... è ora! Oh, però te la potevi fare la pistola! Molta città! Tu... Che cazza? Ah, tu! Ah, tu! Ma non gli fa nulla sto coso! Ma non gli fa nulla sto coso! Via! 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 Mi dà l'occhio! Ma quanto è buggato, raga? Oh, sta buono! Questo mutilo in fa! Chi è? Via da qua che figlio fuoco! Chi è pericolo! Chi è pericolo! Eh! Orca di quella vacca! Ah, che coso! Sorridi! Fai cheese! Ah! Ah! Sta buono! Oh! Porca vacca! Ha preso quello grosso! Eh! Si si stona! Ma una piantina non c'è! Non c'è! Ah! Cuccia! Ma lo stai glitchando un pochino! Si! Porca miseria! È glitchatissimo! Ah! Un pezzo di merda! Il target ha stato neutralizzato! Finita la quarantina! Scusate ma non c'è manco una piantina qua! Ma che mi fichi per il culo! Scusate ma non c'è manco una piantina qua! Ma che mi fichi per il culo! guardo qui! E poi... Vedi C'era c'era Questa quanta roba che mi hanno dato Per combattere contro questo Sarà morto L'enlock Quanto bad ass Ma chi Claire E beh c'è Figa Claire è Tronco di figa E niente Non mi dite che lo scontro finale Finisce qui Anche perché Facilissimo Aspetta un attimo Oh e io come me ne vado da qua Devo tornare da Sherry Ah ok si Siamo a tornare Giusto Allora Sto pieno di munizioni Deposita Deposita Sta cosa qua Qua raga è glicciatissima Non la uso mai più Ora ci prendiamo Le munizioni incendiarie Una Cosa si sia? E' lo scontro finale quello? No dai non c'è credo Troppo facile Le cose di Polveri che c'ho? Ok No Inizioni acide ne ho altre 13 Oh bellocco Grazie Questa era sicuro che ce la faceva I knew you'd make it My mom needs help Annette? Sherry? How are you? Ok But you don't look so good Mommy? Hey Look at the screen Oh thank god So Sherry's gonna be alright? She'll be weak for a little while but Yes She's free of the G-Virus Did you hear that? E muore così Dai no Io volevo vedere la squartata da Birky What happened to her? She was attacked by the monster Don't Don't worry about me Take my daughter To safety Bello che inizia a piangere Bello che inizia a piangere What does that mean? It's a self-destruct coat In case the G-Virus leaves the building Please save my daughter No 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 E' morta No We'lldem No 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 Per favore Sherry, ascolti, lei ti amava, ok? E tu devi andare a andare, vieni Chi non piange lo banno Sono molto felice di averci Sono fuggito Oh E muovete cazzo Tu stai ancora lì, buono Però se non sbaglio abbiamo visto tutto eh V1 Sì, abbiamo visto tutto V2 Sì 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 Per evacuate e quindi Per evacuate e per l'internet Plattom Ah, hai vedi questa che parte? Ok, ok Ok, già inizia a dare cose Cioè, sì, però devi muovere, forca misè Ma seguo l'urcando Cherry, è muovere Questa è un altro salvataggio Mi devo armare? Ma sì, armamo se va Questa è un altro salvataggio Ah, ma quella parte La parte del treno Figa Fa culo, non mi serve Oh, cazzo, queste sono le piante Cioè, io mi brucio, Cherry passa tranquillo Fuggì Ma che sale? Ma che ammazzito La parte del treno Sì, si giuste E' un'esprei Stai, si giuste Do l'esprei retomato Sì, si giuste Sì, sta No eh ma fai con comodo Ott- Dash Si Mi nyilván Si Ti Le lengre Ti St inquber Te So Tonto Oddio, mamma, oh, c'è là c'è là, via Bravo bish, c'è l'idea Chiri, tu resta là ? Je suis derrière toi ! C'est pas de fille, je pense que nous sommes presque d'envoyer de là ! Open ! Claire, peut-être que nous... Qui peut utiliser ça ? Où est la clé ? Minigun Fuck Levati No Sherry Sherry No frate no Sherry Sherry ti devi levare al cazzo Dai Fuggi Che poso Bella Via Ti devi da 9 Antignif qua si è scritto bene Via qua Che è qua mo Ah qua dentro ci devo mettere i cosi Cazzo Nooo Merda mi serve lo spazio Mi serve lo spazio Ciozi Ciozi Ma no Ma no Mette Andiamo devo spaccare quello con la mitragliatrice Come si esce da qua Esci da qua Atenzione Self-destruct sequence Initiate Use the simple penalty Ok Ok All right Something Ok All right It's working Claire What Leon You're down here too Yeah But the whole place is coming down Look You need to get out Fast No I found a way out No 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 Freggan cacchi Tanto Della flash Della granata Leon Scusate You're breaking up Don't worry about me Just get out of here Leon Leon Ancora. Oh! 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 Mamma mia! Ho preso col secondo! Alzate, alzate! Levate da qua! Ne ha buttati una... Curare! Curare, curare, curare! Ia! Curare... Ok... I'm here... Siamo fuori qui. Stupido mostro che sto là. Stupido William Birkin. Cacchia. È crepa. È mio? Dov'è? Sì. So what's the first thing you want to do when we get out of here? I wanna see where you live. Good. Si. Take a shower. Yeah. Really? Not bad. Oh, yeah. Claire. Leon! Leon! So good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Come era contenta, you see? Leon! Stasera si scopo... No, vabbè, ma Leon è di Ada, attenzione. Non scherziamo, non scherziamo su queste cose. L'hai giocato ancora a Tvivi? No, veramente in tutto il gioco sembra Lara Croft, cara Samasa. La parte finale proprio? Sì, l'avevo detto che l'ho finito oggi. Vabbè, mi toccherà fare Leon B. Lunedì lo iniziamo, dai. Sono contento che sia finito, tra l'altro con i tempi ci siamo, quindi. Vabbè, il laboratorio è una cazzata proprio farlo. Ma che davvero è così facile? Cioè è stato più difficile nella stazione di polizia. Lui penserà sicuramente magari ci casca. Dai, poi mi danno quella mitragliatrice, ma dai. Ce l'ho massacrato. Se non fosse che ti piglia proprio a caso, così. Raga, torno subitissimo. No. 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 Ma grazie. Razie. Buồnino. Fai, sei. Buồnino. Gu visãoantica al pescollo! Buon anno. Buon anno dopo il resto. Collang Herellano 500 km. Per ora tengRELomino. Pualom. Le tungro Spiritone, 60 km. E ora Leon B Tra l'altro Lady Kille Lunedì lo iniziamo Leon B Lady Kille tu non l'hai visto Ma io sono vestito come Leon Cioè quantomeno il capitolo classico originale Lo so Vellnok lo so Ma ce l'avevo già io Korath Sì ma Volevi Chiaramente quello fa Sarà la parte di Leon quella lì B Voto B mi hanno dato Ci ho messo 7 ore 30 salvataggi Secondo me è più che fatto Mi hanno dato la B per i 30 salvataggi Però vabbè Io la prima La blind run va goduta Va tranquilla Tutte le altre cose si fanno in tranquillità Off stream Eh voleva Bene ragazzoli Mica male Mica male Hai sbloccato la nuova partita 2 In storia In nuova partita 2 Il finale Alcune di seceva saranno differenti Ah ok Ah è vero M'hanno dato i costumi Uuuu I costumi Gigginali Ha Ebbè Ah ma allora lì Non ce l'ha il costume Cioè ce l'ha la divisa Da poliziotto Vabbè Me lo giocherò Sempre con questo Lo farò sempre con questo Vuoi usare i costumi Siamo tutti i personaggi Sì Va giocato prima così Questo è pure più figo Questo qua eh Ok il fascino Di quello del retro Ma questo è pure più figo No ma che subito Lady No 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 Ti spiego Lady Io adesso Concluderò questo video Perché io faccio Questi gameplay Li metto su youtube Non chiuderò la live Vedrai Vedrai l'end streaming E tutto Quindi Non chiudo la live E poi lunedì Comincio Comincio Leon B Tutto al più Adesso vi faccio vedere Anche se non ho tempo No Adesso giochiamo un po' Qualc'altra cosa No vediamo Magari faccio qualcosa Con il meme Che da tanto Che non lo tocca Ah volevo vedere La roba bonus Che avevo sbloccato Questo l'abbiamo già visto Questo pure Ma che mi fa Questo pure Questo pure Questo Oh bello questo Le fogne Non è diventato cane In questa In questo laboratorio Bene Come ho già detto Io concludo Questo gameplay Ma non la live Quindi vi invito A restare Se volete restare Vedrò poi dopo Perché non avevo Programmato Proprio nulla in particolare Altrimenti ci vediamo Sui miei social O dove volete Link nella descrizione Scolla voi E fate i bravi Altrimenti Vi infetto Con il virus G L'ho notato Manca il quadrupede Si non c'è il quadrupede Non l'hanno messo Scolla Col